Video tag sui capelli Benvenuti tutti quanti sul canale, io sono Ornella del canale Selvaggia Bellezza e oggi proprio nella mia forma selvaggia parliamo di capelli Video tag ideato da Francesca del canale Scarlet81 mi ha taggato lei, mi ha taggato Betty82 vi lascio qua sotto tutti i link dei canali che l'hanno fatto e mi hanno taggato e partiamo subito con le 10 domande prima domanda, capelli lunghi o capelli corti? beh, senz'altro capelli lunghi una sola volta nella mia vita ho tagliato i capelli corti e l'ho fatto per un ragazzino a cui piaceva un'attrice che aveva i capelli corti vi ricordate il film pre tv ma all'inizio che aveva quella parrucca? ebbene questa persona aveva fatto degli apprezzamenti su questa conciatura pure io il giorno dopo sono andata a tagliarmi i capelli esattamente come in quella scena del film e le pazzie si fanno nella vita comunque capelli lunghi direi a parte quella volta lì del caschetto seconda domanda ricci o lisci? beh, io direi entrambi, tutti e due perché io ho i capelli anche più ricci di così io li ho un po' disciplinati ma mi piace portarli lisci mi piace portarli con le onde per me il capello è una cornice del nostro volto deve parlare di noi, deve parlare del nostro carattere del nostro stato d'animo perché io quando voglio di farmi i capelli ricci perché ho un certo stato d'animo quando li voglio ho mossi comunque tendenzialmente mossi mi piacciono di più anche perché secondo me ogni viso all'infuori dei nostri gusti ha comunque un'armonia con una certa pettinatura e secondo la mia opinione il mio viso è più adatto ai capelli mossi e almeno così o altrimenti tutti tutti indietro per via di questa fronte altissima secondo me comunque ci va il capello lungo quindi direi entrambi terza domanda ti piace il colore naturale dei tuoi capelli? allora sì, io amo il colore naturale dei miei capelli il mio castano biondo scuro perché appunto posso valorizzarlo con delle mesh chiare l'ho sempre fatto sin dai tempi quando facevo la modella all'inizio ero più castana che bionda però poi appunto loro comunque ti curano un'immagine in base anche comunque al colore della carnagione e mi hanno sempre tendenzialmente fatto bionda anche biondo quello nordico, quello più esagerato io preferisco il biondo sulle vie di mezzo perché secondo me empatizza molto di più gli occhi sul verde verde marrone come li ho io e poi mi piacerebbe che i colpi di sole fossero ancora più chiari di quelli che porto però purtroppo ho un pigmento dorato sui capelli nel senso che non ho un pigmento grigio e quindi tendono sempre questi colpi di sole a diventare proprio biondissimi mi piacerebbe che fossero un po' più tendenzialmente ghiaccio nordici ma comunque diciamo che particolarmente anche il mio colore di base il castano mi piace tantissimo quindi sceglieresti di cambiare questo colore? diceva anche questa domanda o ti sei più sentita te stessa come l'hai cambiato? io direi che non ho crisi di identità con altri colori cioè io più che altro direi il contrario non mi vedrei rossa, non mi vedrei nera non mi vedrei così quindi mi sento nel mio carattere più così quarta domanda ti piacerebbe cambiare taglio o colore o fare qualcosa di particolare? allora colore come ho già detto no assolutamente non lo cambierei non mi vedrei in altro modo taglio neanche perché purtroppo io ho i capelli molto ricci è il capello riccio e non sa bene in nessun modo più viene scalato più viene secondo me deturpata il suo volume la sua bellezza e anche il modo di arricciarsi tendenzialmente tengo a tenere i capelli scalati ma scalati molto sul lungo e poi vi dirò anche in un'altra domanda come li faccio o chi mi li fa e tendenzialmente preferisco tenere sempre lo stesso taglio non ho voglia di cambiare non ho proprio voglia perché non mi vedo in altro modo quinta domanda ti piace andare dal parrucchiere? stendiamo un secondo velo pietoso mentre il primo l'ho già steso prima per quanto riguarda il colore stendiamo un velo pietoso sui parrucchieri allora forse sono stata sfortunata nella mia vita forse un capello particolarmente sottile, secco, riccio, indomabile non italiano perché il capello italiano è più sul liscio spesso e quindi loro sono abituate a lavorare con questo genere di capello quindi per loro tagliare vuol dire sfilacciare per loro tagliare vuol dire usare il rasoietto, lo sfilaccino invece per i capelli ricci, tendenzialmente fini, è la morte loro quindi non oso più da ben, non mi vergogno a dirlo, 18 anni farmi mettere le mani nei capelli ci penso io mi sono fatta insegnare come poterli scalare nel modo classico e così faccio io non amo molto i parrucchieri perché? per quanto riguarda i colpi di sole sarà la mia allergia, sarà il mio pigmento non riescono a farmeli come voglio adesso dopo tanti anni, dopo tanti cambiamenti sono riuscita a trovare una persona che me li fa abbastanza come piacciono a me tendono a farmi saltare fuori il rosso tendono a farmi saltare fuori l'arancione perché comunque io ho un capello un po' mediterraneo non si sa dove l'ho preso ma comunque ho il pigmento arancione e quindi no, 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 no i parrucchieri, almeno nel mio caso da quando non vado più dal parrucchiere me li tengo io vado solo per i colpi di sole giustamente le pieghe oscene se li fanno dritti me li fanno dritti come degli spaghetti non mi faccio usare la piastra glieli chiedo sempre un po' voluminosi vengo fuori dritta come uno spaghetto anche senza piastra se mi chiedo le onde almeno dalle mie parti non sono in grado di farle neanche i parrucchieri famosi bravissimi nella realizzazione del colore hanno uno studio approfondito per quanto riguarda il tutto però per quanto riguarda le pieghe almeno quelle che vediamo in televisione non sempre vengono così riesco a farmele io sul mio capello quindi probabilmente sarà il fattore che li conosco molto meglio di loro non hanno più pazienza per stare dietro una persona trovo che ci sia oramai la velocità nel tagliare la velocità nel fare le pieghe lisce e via ti stediscono quindi sono un po' anti parrucchiere quanti parrucchieri hai cambiato finora? aiuto anche qui lasciamo perdere non rispondiamo questa domanda tantissimi e niente non ero mai soddisfatta io sono una persona semplice non ho grosse esigenze chiedevo solo un colpo di sole all'antica come negli anni che furono un po' sul cenere e basta nient'altro delle onde che non diventino boccoli ma non sono mai stata soddisfatta allora settima domanda c'è qualche maschera, balsamo, spray o altro per i capelli che stai utilizzando e ti piace particolarmente? allora io amo i trattamenti in questo momento della mia vita con l'età che ho con i capelli come sono sempre stati ma che stanno diciamo invecchiando anche loro quindi direi il trattamento con la cheratina ne ho trovato uno dell'AirMed che è una marca che amo tendenzialmente cerco sempre di utilizzare prodotti biologici e poi magari incrementare qualche trattamento un po' più must adoro tantissimo anche i trattamenti bifase quelli che si mettono assieme in una busta con l'acido ialuronico chiamato botos per capelli ecco per me quello è uno dei trattamenti migliori ne ho provati tanti ne ho scovati tanti e per me quello è quello proprio il trattamento che si vede sui miei capelli e poi olio go go olio di cocco olio di mandorle quindi impacchi diciamo ripetuti di oli sui capelli asciutti per poi andare a fare ancora balsamo maschera più ne metto meglio è sul mio capello che ha bisogno di una forte idratazione per essere bello quindi questi sono generalmente i trattamenti che uso ottava domanda cosa ne pensi delle parrucche ti vedresti con qualche parrucca allora io amo le parrucche ne ho anche qualcuna mi piaceva cambiare anche durante l'estate mettere le parrucche corte quindi con i capelli tutti diratti indietro mettevo questa parrucca corta perché tante volte quando si è al mare si arriva dal mare o uscivo con i capelli bagnati perché se li dovevo lavare il capello riccio richiedeva tempo e quindi o li lasciavo così all'aria aperta o mettevo una parrucca carina corta con i miei capelli magari sotto con un impacco che mentre facevano l'impacco io avevo la mia parrucca ve ne farò poi magari vedere qualcuna forse l'avete vista anche in qualche video nonna domanda preferiresti che ti regalassero un foam un ferro una piastra o una seduta al parrucchiere quindi per fare qualche trattamento allora come vi ho già detto prima i trattamenti e anche quelli costosi me li compro e me li faccio da sola quindi no quindi direi piastre e foam sono praticamente piena diciamo che uno dei miracoli dei miei capelli negli ultimi 4-5 anni cioè hanno fatto un miglioramento proprio incredibile è stato il foam Dyson il foam Dyson che mi aiuta a fare i capelli dritti lisci morbidi mi aiuta a fare i boccoli con le mani le onde con le mani è un foam che trattenendo la temperatura è un foam che non è in questo caso una questione pubblicitaria ma io proprio ho provato su me stessa da anni mi ha cambiato letteralmente la struttura la lucidità e la densità del capello certo io mi aiuto anche con degli integratori perché piuttosto preferisco lasciar perdere altre cose ma comprarmi l'integratore per i capelli per me i capelli sono comunque una cosa abbastanza primaria quindi direi né ferro né parrucchiera quindi non amo molto neanche la parrucchiera per la maggior parte delle persone la parrucchiera è un momento di relax piace andare dal parrucchiere perché piace sedersi prendere un giornale stare un pochettino lì a rilassarsi in quel momento per me la parrucchiera è scomoda perché quando ti lavano la testa io sono altissima 1,81 m e c'è sempre il lavandino basso che per quanto lo tiri su mi va proprio a cozzare qua e io esco veramente distrutta fare che cosa il lavandino è pesantissimo tenermelo qua mi immaginate quante ore per fare i colpi di sole si sta lì no no per me è una tortura la parrucchiera non vedo mai l'ora di fare due volte all'anno i colpi di sole non vedo mai l'ora di uscire proprio perché poi la piega non sono soddisfatta meno male che adesso ho trovato questa santa persona che mi fa questi colpi di sole veramente carini 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 allora decima domanda e ultima ti sei mai tagliata i capelli da sola? hai tagliato i capelli a qualcun altro? ti è piaciuto? lo rifaresti? allora sì mi taglio i capelli da sola sempre faccio le tre misure taglio esattamente dritto non sfilaccio niente ogni tanto tolgo le punte e vado avanti sempre con il mio taglio ho notato che con il peso magari della frangia ogni tanto la svoltisco un po' riesco a farmi bene le onde il peso mi tiene i capelli i capelli stanno veramente in ordine e poi tengono tanto la piega quindi meno vado a togliere quindi a scalare e sfilacciare più i miei capelli tengono quindi me li taglio da sola li taglio a mia mamma li ho tagliato a mio fratello perché è uno di quegli attrezzini che scala sapete quei pettini con il rasoietto dentro e niente mia mamma li ha accorti glieli scalo bene da dietro e poi gli faccio il caschettino che fa sopra da anni li taglio io gli faccio i trattamenti faccio anche un po' la parrucchiera mi piacciono molto queste cose e chissà magari adesso che i parrucchieri sono un po' chiusi e magari mi azzarderò anche a fare i colpi di sole forse è meglio di no comunque per oggi il tag è finito è stato molto carino parlare di capelli piace sempre un po' a tutti sentire anche parlare di capelli e niente così con la naturalezza con il quale abbiamo iniziato saluto Scarlett la ringrazio andate a vedere il suo canale Scarlett è una persona veramente carina è molto molto semplice e mi piace mi piace proprio il suo canale vi saluto e chi taggo? chi taggo io? a me piacerebbe vabbè l'avete già fatto un po' tutti però mi piacerebbe tanto tanto dunque dunque vediamo un po' chi potrebbe farlo mi piacerebbe sentire Masha in Beauty Masha in Beauty lei ha dei bellissimi capelli ricci boccolosi mi piacerebbe sentire questo tag da lei sì sì e poi lo lascio aperto a chiunque lo voglia ripetere quindi per oggi vi saluto iscrivetevi mettetevi un like se vi è fatto piacere ascoltarmi e vi aspetto prossimamente ciao a tutti ciao 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 ciao